Domenica 4 marzo si vota in Italia per il rinnovo del Parlamento. Attenzione, all'estero si vota prima. Infatti i nostri connazionali riceveranno entro metà febbraio per posta al proprio indirizzo le schede elettorali e dovranno restituirle sempre per posta al Consolato entro il giovedì 1 marzo alle ore 16 locali affinché siano inviate a Roma in tempo utile per lo scrutinio. Votano per corrispondenza sia gli elettori iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero sia gli elettori che si trovano temporaneamente all'estero per almeno 3 mesi per motivi di studio, lavoro o cure mediche e che abbiano comunicato entro il 31 gennaio scorso al proprio comune di residenza l'intenzione di votare all'estero. Gli elettori riceveranno il plico elettorale all'indirizzo segnalato al Consolato. A partire dal 18 febbraio e non prima gli elettori che non abbiano ancora ricevuto il plico elettorale potranno rivolgersi al proprio ufficio consolare per richiedere un duplicato. Il plico elettorale contiene un foglio informativo con le istruzioni su come si vota la scheda o le schede elettorali a seconda che l'elettore abbia meno o più di 25 anni e quindi voti solo per la Camera dei Deputati oppure anche per il Senato della Repubblica una busta piccola di colore bianco nella quale inserire esclusivamente la scheda o le schede elettorali. Il plico contiene inoltre le liste dei candidati, il certificato elettorale e la busta preaffrancata dove andrà inserita la busta piccola di colore bianco unitamente al tagliando elettorale ritagliato dal certificato che dovrà essere rispedita al Consolato. La busta preaffrancata deve pervenire all'ufficio consolare al massimo entro le ore 16 locali del 1 marzo. Si raccomanda quindi di rispedirla il prima possibile.